Buongiorno a tutti, io devo le mie scuse agli organizzatori di questo incontro, Alessandro Rinaldi che presenta la ricerca, alla moderatrice Paola Pierotti, al mio collega della Bocconi Giovanni Fosti che è il Presidente della Fondazione Cariplo, al mio collega Assessore a Cultura del Comune di Milano Filippo del Corno e a Ermettere Alacci, cioè al Presidente della Fondazione Simbola. Vi devo le mie scuse, così come devo le mie scuse agli spettatori, a chi sta seguendo questo incontro, per la mia assenza, un'assenza dovuta a un impegno istituzionale improvviso convocato ieri sera e di conseguenza affido il mio ragionamento e le mie riflessioni brevi a questo video. Diciamo che i dati che riguardano la Lombardia di Io sono Cultura del 2020 sono dei dati che devono far riflettere. Il rapporto Io sono Cultura 2020 ovviamente prende in esame la situazione sin dal 2019 e la situazione dal 2019 certifica una realtà dal punto di vista dell'offerta culturale, dal punto di vista dell'accesso, della frequentazione degli istituti e dei luoghi della cultura dell'intera Lombardia, una realtà in fortissima crescita e questo la dice lunga sull'impatto che la pandemia appunto nel corso del 2020 ha avuto sugli istituti e dei luoghi della cultura. Eravamo in un momento, in un trend molto favorevole e quindi il Covid ha fatto ancora più male rispetto a realtà, se fossero state abbastanza boccheggianti. Io durante tutti i tre lockdown ho tenuto costanti e continui rapporti con una serie di direttori, di musei, teatri, cinema e per esempio il gennaio 2019 su gennaio 2020, che è l'anno, cioè che è l'ultimo mese completamente disponibile per quanto riguarda gli accessi, aveva avuto dei risultati fortemente positivi. Vi faccio degli esempi, il Vittoriale appunto gennaio 2020 su gennaio 2019 aveva aumentato i suoi visitatori del 30% quasi, del 29%. Il Museo della Scienza e della Tecnologia aveva aumentato i propri visitatori del 26%. Il Museo Bagatti Valsecchi anche lui aveva avuto un forte incremento di visitatori e quindi questo certifica che appunto nel 2019 la realtà culturale lombarda versava in un momento felice dal punto di vista dei suoi dinamismi, dei suoi meccanismi interni e il Covid ha fatto davvero molto male. Adesso siamo qui in prossimità, si spera, delle riaperture. Io sono convinto che i musei riapriranno prima, i teatri e il cinema, soprattutto i teatri, è meglio pensare a una riapertura in là nel tempo, penso a settembre-ottobre, però una riapertura fissa che non si presti a questa interpretazione intermittenza delle riaperture, chiusure, perché è stata questa incertezza di fondo che ha fatto comunque male agli istituti e luoghi della cultura, anche perché così, oltre ad attrezzarsi i luoghi e gli istituti della cultura in ordine alle misure di prevenzione sanitaria e di contenimento del contagio, ci sarà più tempo per i vaccini e ci sarà più tempo anche per pensare e progettare la programmazione. Io sono convinto che la cultura possa imporsi in questa fase, nella fase di riapertura dopo quello che è stato nel 2020, che è certificato appunto dalla ricerca di simbola. Sono convinto che la cultura possa imporsi secondo un modello che a me piace chiamare il modello dei pomeriggi musicali. I pomeriggi musicali, orchestra nota a livello nazionale e internazionale, che è l'orchestra del teatro dal verme di Milano, nascono il 26 novembre del 1945, quando Milano è rasa al suolo. Milano è distrutta dal punto di vista sociale e culturale prima che economico e materiale, perché appunto gli edifici erano abbattuti dai bombardamenti. E allora un impresario e un critico musicale si mettono insieme e fondano l'orchestra dei pomeriggi musicali, che appunto tiene il primo concerto, il 26 novembre del 1945 alle 17.30. Il messaggio, al di là di tutto, il messaggio che emerge da questa appunto dalla nascita dei pomeriggi musicali, ma dopo pochi mesi sarebbe nato il piccolo teatro, quindi diciamo che il messaggio che vi ci viene trasmesso da questa esperienza è un messaggio importante e significativo, perché significa vedere nell'arte, nella cultura, nella musica, nel teatro la strada maestra per lasciarsi, per uscire dalle rovine dell'umanità, per voltare pagina, per guardare al domani con rinnovata fiducia. Ecco, poiché ci troviamo di fronte all'indomani o comunque nella fase finale della crisi pandemica sicuramente più grave dell'ultimo secolo, considerando la spagnola della fine della prima guerra mondiale, è evidente che la cultura si può imporre come lo strumento privilegiato per appunto rilanciare la coesione sociale, rilanciare, ricostruire la socialità. In fondo noi abbiamo vissuto per tre volte consecutive dei momenti in cui si sono innescati dei meccanismi disgregativi della socialità, perché le persone sono state a casa da sole, perché appunto c'era il lockdown, quindi non si poteva uscire, non si poteva frequentare non solo i luoghi della cultura, ma penso anche ai luoghi della ristorazione, ai luoghi di socialità e quindi si sono innescati questi meccanismi disgregativi della socialità che soprattutto nelle piccole comunità, io vorrei fare un ragionamento separato tra Milano e il resto della Lombardia, perché Milano è Milano, il resto della Lombardia, le piccole comunità delle valli hanno subito dei meccanismi disgregativi della socialità e allora è solo facendo leva sui luoghi degli istituti della cultura, penso alle biblioteche, su 1500 comuni in Lombardia abbiamo 1400 biblioteche, vuol dire che quasi ogni comune ha la sua biblioteca, sono pochissimi i comuni, sono un centinaio i comuni che non hanno una biblioteca, ecco investire nelle biblioteche, nei circoli di lettura intorno alle biblioteche, mettere insieme gli anziani che vanno a leggere il giornale con i giovani che vanno a studiare in biblioteca, significa fare leva sui luoghi della cultura, significa ricostruire la socialità di queste comunità territoriali. Bisogna riportare le persone e emerge bene dai dati del rapporto Io sono cultura 2020 relativamente appunto alle flessioni, alle diminuzioni degli accessi e della frequentazione degli istituti e dei luoghi della cultura, bisogna riportare le persone una volta che si potrà riaprire a frequentare i luoghi della cultura e di conseguenza lavorare dal punto di vista delle istituzioni pubbliche sul tema dell'attrattività è fondamentale. Lavorare sul tema dell'attrattività vuol dire valorizzare le imprese culturali e creative, è senza dubbio valorizzare il ruolo che hanno le imprese culturali e creative sul tema dell'innovazione tecnologica come certificato dal rapporto di Simbola, lavorare sulle imprese culturali creativi per l'adozione di nuovi modelli organizzativi. Le imprese culturali creative in Lombardia rappresentano una splendida realtà, i dati del 2019 pre-pandemia lo certificano, lo certifica il fatturato complessivo delle imprese culturali creative, lo certifica il numero complessivo degli addetti, degli impiegati, delle persone coinvolte, 365 mila persone, lo certifica la crescita che nel 2019 hanno avuto le imprese culturali creative. Per questa ragione, perché rappresentano un patrimonio importante per la Lombardia, ovviamente dove si registra la leadership di Milano, ma dietro Milano poi ci sono altre realtà nella graduatoria delle imprese culturali creative, che è pubblicata da Simbola. Milano spicca ovviamente, ma anche altre realtà sono particolarmente dinamiche da questo punto di vista, perché ci troviamo di fronte appunto a Monza Brianza, Como, poi c'è tutta una fascia Bergamo, Lodi, Manto, Valecco, Varese, fino a Brescia, che diciamo ha avuto un valore aggiunto nel 2019 dal 5,3% al 4,3% e rappresentano appunto una realtà importante e significativa, proprio per questa ragione, perché le imprese culturali creative nell'offerta culturale Lombarda sono importanti. Nel 2020, pur con le ristrettezze del bilancio, perché la larga parte delle risorse è andato a coprire l'esigenza del sistema sanitario, abbiamo adottato almeno tre provvedimenti, con questo volevo poi concludere, tre provvedimenti rivolti solo alle imprese culturali creative. Innanzitutto abbiamo fatto un bando inserito nel bando Archè, pubblicato nello scorso mese di agosto, nell'agosto 2020, in cui abbiamo messo 2 milioni e mezzo di euro sul bando Archè per promuovere le start-up delle imprese culturali creative in Lombardia, proprio perché siamo convinti che il valore aggiunto in termini di innovazione, di dinamismo e dell'adozione di nuovi modelli organizzativi delle imprese culturali creative nel settore appunto degli istituti e dei luoghi della cultura sia fondamentale. Quindi abbiamo messo 2 milioni e mezzo nel bando Archè, pubblicato ad agosto dalla DG Sviluppo Economico. Abbiamo fatto un bando di cui si è appena conclusa la prima fase in collaborazione con Fondazione Cariplo e Union Camera, che è il Nuova Musei. Il Nuova Musei è un bando importante perché noi chiediamo alle imprese culturali creative, alla realtà delle imprese culturali creative, di adottare dei musei per svecchiare l'offerta museale, per renderla più dinamica, per favorire l'adozione delle nuove tecnologie, nuovi modelli organizzativi dentro i musei che in Lombardia sono tanti perché sono circa 600, rappresentano una fetta importante dell'offerta culturale regionale e tuttavia versano in uno stato di forte tradizione dal punto di vista della concezione della musealizzazione, della concezione dei percorsi espositivi, della concezione della narrazione museografica. Ecco, c'è un po' questa vecchiezza nel sistema museale Lombardo e l'idea di promuovere l'adozione da parte delle imprese culturali creative di un museo per ribaltarlo, scusatemi il termine, ribaltarlo dal punto di vista proprio dell'offerta museale, dei criteri espositivi, adottando nuove tecnologie, risponde proprio a questo criterio, a fare leva sull'attrattività per riportare le persone a frequentare i nostri musei. Quindi il Bando Arche è 2 milioni e mezzo, il Nuova Musei per le imprese culturali creative che devono adottare ognuna un museo e fare un progetto per rinnovare dal punto di vista ripeto dei modelli organizzativi, dell'innovazione tecnologica, la fisionomia, il profilo di quel museo e poi subito prima di Natale abbiamo premiato questi 14 PIC che sono i piani integrati della cultura, 14 PIC, sempre in collaborazione con Fondazione Cariplo e Union Camere, ci abbiamo messo 12 milioni su 14 progetti, quindi poco meno di un milione a progetto abbiamo finanziato perché io sono convinto che in direzione della valorizzazione integrata dell'offerta culturale e territoriale questa regione possa fare scuola a livello nazionale e anche a livello internazionale, è talmente ampia, talmente variegata, talmente dinamica l'offerta culturale di questa regione che la valorizzazione integrata dell'offerta culturale territoriale è la strada maestra per rilanciare il sistema culturale lombardo.